ciao a tutti buongiorno e benvenuti a questa nuovissima e entuziasmante puntata di diretta isolamento oggi abbiamo tanti argomenti di cui parlare e sempre molto ovviamente interessanti e dalle dietro diciamo dalle quinta dietro le quinte stefano se la ride sotto i baffi e manuele adesso invece lo prendiamo subito e stefano lo facciamo lì morire ok vabbè e vedremo vedremo più tardi dunque è arrivata anche giulia nel frattempo ciao manue come stai tutto bene questo non è proprio è un celestri screen adesso poi vedremo cosa riusciremo a fare anche io conferma che sembrava grigio e noi invece proprio di un altro colore e allora come va bene oggi prima uscita vera di lavoro sopralluogo in condominio panico totale pensare di avere a che fare con altre persone sconosciute mascherina tutte le cose tutto mascherina guanti potrei mettere in mondo adesso giulia che sta leccando un coltello però non lo farò vabbè non lo so stiamo passando dal distanziamento sociale a come si può dire repellenza di aiutami con un termine per dire che uno non vuole avere a che fare con nessuno al di fuori familiare guarda guarda però questo diciamo in funzione di questo ti posso dire che il governo e le regioni comuni stanno comunque adoperando adoperando perché già sono ci stanno già portando avanti per l'apertura dei locali di ristoranti eccetera in particolare come tutti voi sicuramente saprete si sta andando verso la riapertura di insomma diciamo l'intenzione è quella di riaprire i ristoranti ovviamente prima asporto domicilio asporto eccetera eccetera e successivamente poi per l'apertura anche dei locali ovviamente ci saranno delle distanze da rispettare in particolare hanno parlato dei quattro metri quadri a a persona ricordiamo cosa intendiamo per i quattro metri quadri gecchi e ricordiamo che cosa intendiamo per i quattro metri quadri c'è un un giornale che non di cui non vogliamo citare la fonte anche perché non la non la sappiamo anch'io non volevo dirlo ma infatti non l'abbiamo detto abbiamo detto penso 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 messaggero che ci aiuta con una grafica che è questa io questa è la grafica ufficiale delle linee guida dell'ispel inail non so bene chi che come vedete oltre a riscrivere le regole per garantire il corretto distanziamento sociale all'interno dei luoghi pubblici tra le regole della geometria riscrivono le regole della geometria di base di terza elementare diciamo così e propongono una diciamo una loro versione affascinante se vogliamo per certi versi e per individuare quattro metri quadri uno giustamente fa un quadrato di quattro metri di lato con il pirla forse intendevano quattro quadri quattro quadri oppure quattro quadri si ricordiamo che tra l'altro questo schema è quello utilizzato diciamo nelle classiche catene virali che girano per capire quanti quadrati vedi all'interno di questa figura esatto quanti quadrati vedete uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci uniti ben sei troppo difficile allora fermo lì fermo lì che siamo già partiti col botto mi sembra dunque ci sono aspetta un attimo perché ci sono un po di messaggi che sono arrivati facendo un passaggio indietro sullo sfondo del mio della mia come dire del mio covo abbiamo già detto di riprendere dal primo di davide sulla fobia sociale vuoto si però c'è questo prima la vecchia la triba blue versus gray ok questo ci sta sempre poi davide che ricorda fobia sociale io ce l'ho è quella che citava manuele prima rispetto ai suoi clienti si può dire così si può dire poi nel frattempo è arrivato il reuccio di quartuccio che però è ancora al lavoro sono ancora al pc al lavoro ma provo a seguirvi un po noi siamo qua marco quando vuoi un bacione da parte nostra poi ci sono alcuni commenti su questo agghiaggiante riscrittura delle regole che è semplicemente un oscavolaccio che va sempre bene franceschino che ci dice ha un genio essi e questo è grandissimo franceschino e la riscrittura delle regole della geometria sono anche confermate sempre da stefano che ci dice che 4 per 4 uguale a 4 metri quadri anche questo ci sta ci sta nel frattempo è arrivata marie ester che ci saluta che dice anche lo so anche io che 4 per 4 non fa 4 giulia nel frattempo anche fatto un altro commento lo stesso giornale che noi non abbiamo citato abbiamo ipotizzato possa essere quello però non lo sappiamo perché se vedete qui c'è scritto un certo momento da qualche parte messaggero messaggero può voler dire qualsiasi cosa dice stesso giornale misura da poco il perimetro in metri quadri dipende se un perimetro magari la linea grossa magari era un po così comunque poi lo riprendiamo questo discorso della fobia sociale perché per davide oggi sono uscite delle ulteriori linee guida non dei locali che sono sicuro che potremmo 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 dire con davide diciamo che verranno incontro alla nostra fobia sociale è il fatto che non vogliamo nessuno intorno meraviglioso se verranno applicate sarà un'estate bellissima come direbbe conte facendo le corne senti detto ciò io toglierei questa aberrazione se così si può dire forse non si può dire ma noi lo diciamo chi se ne frega e rispetto alla fobia sociale volevo farvi sapere invece che a parigi la fobia sociale non c'è e ce lo può confermare giulia che invitiamo subito alla nostra al nostro desco perché rivi no e davide in realtà sta a parigi quindi se lui dice che alla fobia sociale gli crediamo non è vero lui lui ha la fobia sociale la maniera era in giro io il primo giorno di deconfinamento era in giro a comprare bici stai orlando troppo senti prego è sempre un piacere ma fa ridere sta cosa pelato pelato volevo sapere da te giulia abbiamo beccato il colore oggi si è una sociale si deve abbinare con lo sfondo decchi esatto si volevo fare come aveva fatto friccio quella volta friccio è al lavoro è un'ora indietro quindi sono le cinque dieci adesso senti esattamente allora stiamo dicendo fobia fobia sociale c'è non c'è c'è non c'è noi diciamo che a parigi non c'è perché abbiamo un contributo video che giulia ci ha gentilmente fornito che possiamo mettere a disposizione di tutti se mi ricordo come il diavolo si fa ecco c'è anche condivido anche l'audio quindi voi per cortesia fate quello che volete il mercato è vuoto si sente si quindi ho sentito a lavorare ma mi pare strano ho la gente a favore di uscire di casa ancora ma è vuoto anche a livello di bancarelle quindi diciamo che nessuno ha più voglia di vivere no è semplicemente aveva ragione aveva ragione davide c'è fobia sociale probabilmente proprio quella anche a parigi ma di solito nei mercati ci sono c'è tutti e due i lati hanno le bancarelle e non c'è spazio per passare tra una bancarella e l'altra quindi vederlo così era veramente triste probabilmente anche macron ha dato la disposizione di tenere un perimetro di 4 per 4 comunque c'è una banca della seona no quindi il mercato era già di mezzo il mercato era già di mezzo senti può essere può essere che abbia dato quello uno probabilmente ha dato sempre i 4 metri quadri però oppure semplicemente anche loro non sanno che 4 per 4 non fa 4 e quindi chi lo sa chi può dirlo io manderei davide in giro per le strade a parigi a chiedere alla gente quanto fa 4 per 4 davide puoi andare in giro a parigi a chiedere quanto fa 4 per 4 ai francesi però riprenditi perché vogliamo vedere le reazioni della gente non è che ti hanno rapito cosa nasconde quel telo no non mi hanno rapito sono io che ho rapito qualcuno e dietro ci sono i rapiti appunto allora tornando tornando a noi quindi fobia sociale sì a parigi infatti si è visto che c'è lì la situazione così o no no sì io ho preso anche una linea che non è tra le più trafficate comunque la linea 5 oggi c'era pochissima gente non l'ho presa in ora di punta per evitare il casino tuttavia veramente in pochi e c'è da dire che la gente cioè è stato detto se potete lavorare da casa lavorate da casa quindi quello è assolutamente stato detto e consigliato poi c'è chi non ne può più di stare a casa si è andato a lavorare lo stesso anche se potrebbe fare smart working no una cosa sulla fobia sociale più che altro quello che succede a me è che durante questo confinamento ho avuto videochiamate, messaggi, gruppi sono stata veramente bombardata da un po' troppo e ma non c'è più voglia manco di queste cose qua cioè manco dei gruppi ho preso di aver litigato più o meno con tutti dopo la liberazione di Silvia Romano ho preso di aver litigato proprio con tutti sono uscita da ogni gruppo quindi cioè proprio basta ma non è che mi fa paura la gente che incontro per strada pure quelli che vengono attraverso il telefono mi fanno paura adesso insomma ci sta oggi anche una mia conoscente in un gruppo in comune di Whatsapp ha detto bene ragazzi io lascio questo gruppo perché boh ho capito adesso non ho più voglia ciao finito ci sta cioè per carità insomma sì cioè si arriva a un punto in cui prima non lo so forse durante il confinamento non avevamo niente da fare ce le facevamo andare bene tutto adesso sentiamo odore di libertà va bene io dico semplicemente che invece durante questa quarantena non ho aderito a 200 milioni di gruppi ulteriori rispetto a quelli che già avevo quindi ho mantenuto un livello costante di contatti con il mondo non subisco un particolare shock da rientro da rientro poi stiamo ancora ancora lì quindi boh bisogna ne riparleremo quando potremo andare in spiaggia comunque qua fa freddissimo quindi non è un piacere uscire qui ci sono 800 gradi invece più o meno che temperatura che temperatura che temperatura c'è Giulia a Parigi che temperatura c'è fa freddo siamo a Cagliari ma ci c'è diciamo tra i 9 e i 10 gradi durante il giorno boh qui 27 28 avremo 15 gradi di notturno sì no ma qua le vostre temperature ce le sogniamo senti ascolta tu hai parlato di Silvia Romano noi non vogliamo proprio Giulia no non vogliamo è difficile trovare effettivamente sta cosa aspetta che ne abbasso prova così Jackie se no prendi me devi prendere Giulia esatto così no allora non vogliamo parlare di Silvia Romano perché per carità basta però il un paio di giorni fa al rientro di Silvia Romano la pagina mitica la pagina un'altra Silvia Romano no è sempre quella era no sì aveva si è posto una domanda in particolare che cosa chi è che dice sta cercando di riconvertirla è dietro la tenda va bene Franceschino sei un cretino volevo dirvi volevo dirvi questo che socialisti godenti si è posto la domanda ma ve lo immaginate se Silvia Romano dovesse chiedere a qualcuno che mi sono perso che mi sono persa in questi in questo anno e mezzo di prigionia barra quello che era insomma che non sono state in Italia e socialisti godenti ha fatto una beh ve la facciamo la guardiamo insieme perché fa molto ridere vale poi aspetta prima di fare questo c'è un commento di di Davide che dice che c'è c'è Shai che è quello di di Breaking Italy che ha fatto un grandissimo riassuntazzo a riguardo ci siete? ci siamo vai non ci sono? ci siamo? ci siamo c'è Shai che ha fatto un grandissimo riassuntazzo a riguardo il rapimento e del riscatto di Silvia Romano l'ordine degli stavo cercando sul computer l'ordine degli psicologi della Lombardia comunque ha mandato un email generale che si intitola un bel tacher non fu mai scritto e dice infatti che insomma non si è tutti psicologi è meglio che la gente si tappi la bocca in una situazione come questa e basta ed è scritto benissimo e bravi bene adesso vi faccio vedere questo che è molto carino e dobbiamo cerchiamo per carità di commentarlo così velocemente anche perché insomma non allora si legge sì? sì sì ok tra poco si verrà noto in Italia dopo una prigionia iniziata nel novembre 2018 verosimilmente non ha avuto informazioni su cosa è successo in Italia nel mondo da allora per aiutare a rinserirsi in una società ecco qui la lista non viene sparso delle cose successe in questo anno e mezzo dunque uno Conte è ancora il presidente del consiglio ma non è più amico di Salvini ed è diventato buono il segretario del PD è Zingaretti il segretario del PD è Zingaretti anche questo effettivamente è un po' strano esiste Italia Viva il nuovo partito di Matteo Renzi Salvini avrebbe potuto aggiungere che il grafico di Italia Viva è uguale a quello di insomma di uso esclusivo femminile una nostra vecchia conoscenza Sarda fa parte di Italia Viva adesso però non so forse vuoi parlare di politica quindi questo è meglio se non dico niente io ma figurati la famosa Barraccio che fu candidata come presidente della regione Sardegna da Renzi e poi tolta ecco ha seguito Italia Viva e per questa cosa sempre di Silvia Romano siccome su Twitter la gente riconosceva un po' a Civati il fatto di non averla mai dimenticata perché in tutti questi mesi 18 mesi Civati ogni mattina si svegliava e scriveva un post su Twitter contando i giorni del rapimento di Silvia Romano perché nessuno ne parlava più e lui invece ricordava sempre questo che non è stata Pippo Civati esatto Pippo Civati e la Barraccio invece contro Civati inviperita dalla gente che si congratulava con Civati perché come se avesse fatto qualcosa proprio la Barraccio non c'è altro da dire è veramente scello quando può prendere un uccanone per perdita lei la perde niente finita la Barraccio no la Barraccio non ha nulla da dire no qualcosa pure lei cioè non solo Pippo Civati anche lei vabbè andiamo avanti su queste cose che ce ne sono un sacco e non riusciremo a vederle tutte quindi poi vabbè Salvini ha fatto un estate scusa ci siete? mi sentite? alla grande dai Salvini ha fatto un estate 2019 che neanche io ti sento con la borsa d'alieno e invece voi mi sentite bene? io sì allora Manuel che vuoi che ti dica? ora è meglio sarà problema mio Salvini ha fatto un estate 2019 che neanche Britney Spears nel 2007 il papete era diventato il centro della politica italiana in effetti anche questa cosa qui è stata una cosa estremamente strana Salvini non sta più con la Isoardi ma ora sta con la figlia di Verdini che questa è carina Salvini ha citofonato ad un ragazzo orreo di essere figlio di stranieri chiedendogli se spaccia questa è una delle mie preferite ricordiamo che tra l'altro Salvini era stato visto con la figlia appunto di Verdini che non ha un nome definita sempre solo figlia di Verdini mano nella mano a fare la spesa in piena pandemia quando tutti dovevano uscire da soli e fare la spesa mentre lui giustamente in via Roma in corso via Roma via del corso lì molto bene bene Toninelli ne ho eletto ministro dei trasporti del conte 1 quanto ci manca spettacolo è tanto da ridere ma ora se ne è già andato purtroppo sì e il ponte non è ancora finito ma quasi Di Maio è il ministro degli affari esteri e probabilmente lo devi persino ringraziare era l'unico con la mascherina con la bandiera dell'Italia poverino mi ha fatto tonerezza una gaggiata se vogliamo dirlo però terribile infatti era l'unico ma vabbè salvi ma io pensavo che figlia di Verdini fosse una paraffra di per figlia di Verdini no Toninelli ci manca tanto ci tirava sempre sul morale sì era fantastico il ponte di Genova doveva essere un luogo d'incontro per era una cosa meravigliosa comunque lui ci vedeva qualunque cosa era bellissimo era uno dei migliori vabbè Salvini ci ha scartavetrato le palle per due anni con i porti chiusi ad ogni ONG e persino alle navi militare italiane ecco sì congiunto affetti stabili amici veli favore delle tenebre il governo Conte 2 ha creato un nuovissimo un nuovo bellissimo vocabolario molto bene qui stiamo sbagliando scusate il bello della diretta l'abbiamo detto oggi no ok no oh mi sono abbiamo nove minuti Jack quindi devi fare velocissimo io sono non fa niente Juncker non è più presidente della commissione europea ora c'è la von der Leyen una caccia tedesca benissimo c'è un referendum sul taglio dei parlamentari che dovremmo fare ma sarebbe anche il caso di no condivido se posso dato che abbiamo parlato di politica condivido ed è un bene che diciamo sia arrivata questa pandemia in questo momento perché fortunatamente ne riparleremo ne riparleremo Yannick Sinner è un ragazzo che gioca a tennis mi auguro che tutti che lasciate in questa diretta altrimenti io esco e abbandono sì certo è un ragazzo tirolese è un ragazzino tirolese che gioca a tennis e è la stranascente del tennis speriamo bene Boris Johnson è primo ministro del Regno Unito e questa è una cosa vera che è riuscito ad uscire dall'UE in mezzo all'ilarità generale e chi l'avrebbe mai detto insomma anche questo è vero Boris Johnson ma chi l'avrebbe mai detto che noi con Premier Conte avremmo avuto un Premier molto più decente di Conte beh sì ma voi pensate di Conte rispetto alle figure di merda di cosa di Boris Johnson e di Trump uno statista Conte cioè io non sono mai sentito orgoglioso della politica italiana come questi anni hanno fatto una boiata via l'altra e noi non abbiamo fatto nulla meno male non abbiamo fatto nulla e mi usciamo da signor solo chi solo chi non fa non sbaglia allora chi Kim Jong-un è morto il risorto che questo è vero oppure ce n'è più di uno chi può dirlo Fratelli d'Italia ha percentuali a due cifre anche questa cosa incredibile la Lega si è magnata la Lega si è magnata tutti i 5 stelle e i 5 stelle pur stando al governo hanno più eletti che votanti però Bogio ha dei capelli invidiabili eh ma da chi Salvini ha approvato due decreti sicurezza che non hanno niente di sicuro e che sono ancora in vigore Cala Racchetti è diventata l'eroina dalla sinistra per aver attraccato di prepotenza sulla Sea-Watch 3 a Lampedusa nonostante i decreti sicurezza i gilet gialli non si li caga più nessuno eh Giulia ma che fine hanno fatto i gilet gialli? non so ne sente più nulla perché tra l'altro non possono non possono incontrarsi quindi se non ha gruppi di 10 a gruppi di 10 non fanno più paura a nessuno e che peccato ma torneranno cioè qua a Parigi c'è una devastazione un'ondata di devastazione dopo l'altra tra gli scioperi gilet gialli e questo chissà quale sarà gioca gioia tutte queste cose qui non si insomma è veramente un disastro scoloriti dice Franceschino ci sono state le sardine e anche quelle non se le caga più nessuno Neon Genesis Evangelion è finito Evangelion ma è stato vabbè su questo io potrei fare uno speciale quando volete facciamo lo speciale su Neon Genesis Evangelion sì sì ok perché interesserà a tutti uno scandalo clamoroso uno scandalo clamoroso come tutti voi ben sapete il problema non è il doppiaggio che è fatto bene ma è l'adattamento dal giapponese all'italiano che è stato fatto da cani guarda guarda mi hai tolto le parole di bocca esatto non avrei saputo dire meglio via social ed è stata così clamorosa una l'ho fatta partire io una l'ho fatta partire io ma così clamorosa che Netflix ha tolto l'audio italiano dal dallo streaming se tu vai su Netflix e ti guardi questo cartone animato c'è solo il linguaggio originale inglese francese spagnolo forse una roba mai vista prima una roba mai vista guarda guarda non dire no l'ho visto purtroppo una cosa veramente una cosa veramente devastante tanto devastante che Giulia se n'è andata allora poi andiamo avanti Lady Gaga e Bradley Cooper hanno morosato e fatto una canzone assieme ma non era vero nulla io sono un po' fuori purtroppo da tutta questa storia qui dei film ma comunque vabbè hanno fatto una canzone per una colonna sonora per vendere ancora più dischi hanno fatto finta di essere di fare una murina e invece un misciamuredo un misciamuredo tutti quelli che avevano paura delle scie chimiche ora hanno paura del G5 del 5G buonanotte scusate le olimpiadi del 2020 le faremo nel 2021 Guaidó si è nominato da solo presidente del Venezuela che sfigato e tutti gli sono andati dietro ma ora non sono più nessuno e Maduro è ancora presidente poveretto questo c'erano milioni di persone che facevano le parate per lui Trump ha avuto scusate Bolsonaro il presidente del Brasile è anche peggio ed è anche peggio delle aspettative Giulia c'è un'altra paresi oppure sempre oh no è un'altra paresi Trump ha avuto l'impeachment ma no eccola eccola Trump ha avuto l'impeachment ma poi l'ha scampata Mario Giordano ha spaccato Zucke con una mazza da baseball in diretta tv Mario Giordano ha spaccato Zucke con una mazza da baseball in diretta tv perché odia Halloween questa io non l'ho vista come non l'hai visto vabbè è che Rete4 probabilmente viene tolto dal telecomando di ogni persona normale ma domani non c'è più Emanuela Foliero che era l'unico motivo per guardare la Rete4 domani cerchiamo se riesco a fare la diretta cerchiamo di di vederlo Savoini Savoini Amicone io sto leggendo molto piccolo quindi se sbaglio qualcosa avvisatemi Amicone Salvini ha chiesto supporto economico sotto banca a dei petrolieri russi amici di Putin per finanziare l'attività elettorale della Lega questo dopo che la Lega stessa si è intascata a 49 milioni di euro fregando le cittadini italiani Mariana Aprile è ospite fissa dalla Gruber Achille Lauro se ne frega ma cosa ne sai tu comunque io guardo la Gruber e so chi è questa qui che è ospite fissa ah beh certo chi è al mercato mio padre compro dice Franceschino non ho capito questa grandissimo Cannarsi di Davide ah Cannarsi è quello del doppiaggio di quello stiamo parlando ah ok ma che grandissimo è veramente indefiziente non è propaganda live Matteo Renzi ha costretto il PD a fare Matteo Renzi ha costretto il PD a fare il governo col Movimento 5 Stelle contro il parere del segretario del PD ha ottenuto il governo ed è uscito dal PD ora forse pure dalla maggioranza ma questa è una storia anche da se stesso il Movimento 5 Stelle ha accettato di fare un governo col PD il Tg2 è diventato una specie di istituto luce salviniano Salvini è diventato un integralista religioso Salvini si è vestito da occhetto per fare la campagna in Emilia Romagna un euro per ogni volta che citano Salvini facevano almeno un reparto di terapia intensiva in Lombardia infatti vai leggi scusa volevo dirvi una cosa che ieri ha parlato Boris Johnson ieri e l'altro ieri dopo più di mese e mezzo che non si facevano sentire non so se avete seguito un po' però in pratica lo Stato che adesso dava l'80% dei salari con il 20% che poi veniva dato dal dottore di lavoro sta iniziando a tirare il braccio indietro e darà solo il 60% quindi al dottore di lavoro passa il 40% che non lo farà mai quindi tirano i licenziamenti in matta o le figli ah no non dobbiamo gioire va bene allora ragazzi ci vediamo ci vediamo domani se si do la o e niente quindi buona buon pomeriggio buonasera domani ciao Sibiri ciao 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 Stefano che sei lì dietro le quinte ciao ciao da cavolo sei diretta sia tradimento ciao 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 ciao